oggi siamo alla pinetina ma c'entra poco col bonsai perché eccomi qua in realtà volevo semplicemente farvi vedere un qualcosa di particolare foglie che a volte non sono foglie volevo mostrarvi un qualcosa che non magari in questa particolare essenza in questo particolare tiglio qualcosa che noi troviamo in tante piante siamo portati a pensare che questo in realtà sia il fiore di questo albero in realtà non lo è il fiore solamente l'ultima parte grazie al nostro inviato da interello dalla pinetina che ci ha inviato insieme alla linea anche un esempio eccole qua allora si chiamano bratte cosa sono l'abbiamo detto delle foglie che non sono foglie questo è il vero fiore e questa no e questo questa è la foglia questo è il fiore e questa è la brattea che protegge se guardiamo il fiore allora è comune a questo il tiglia cordata che poco lo usiamo per il bonsai quindi chi se ne frega è comune ad esempio alla stella di natale quella rossa non è null'altro che la colorazione delle brattee ma è comune anche questo e anzi a proposito bellissime bougainville e una cosa importante se vi piacciono contattate vito miano che queste me la mandate lui sono bellissime resistentissime adesso nonostante col brutto tempo che qua da me stanno facendo una bellissima colorazione e comunque va beh detto questo grazie vito a proposito vedete se le guardiamo da vicino anche questo sono foglioline modificate il fiore è questo all'interno no vediamo qua ne abbiamo una di un altro colore che magari ecco qua si vede un po di più il fiorellino con la fogliolina la brattea modificata e la foglia modificata intorno quindi ridiamo la linea a pinetina quindi qui a piano gentile da la pinetina sicuramente non è l'habitat diciamo nativo della bougainville perché tra l'altro è di provenienza sudamericana anche se molto presente nella zona mediterraneo però 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 è qua mi è venuto in mente di farvi questo video e così ne faccio metà qua metà a casa e niente se vi è piaciuto per diversi motivi per le blattee per il fiore per la bougainville o per l'inter che a me personalmente non colpisce perché non piace il calcio vabbè mettete qualsiasi motivo sia like e condividi che mi fa sempre piacere e se per caso volete frequentare una scuola bonsai andate da uno che ne sa anche di coltivazione e quell'uno lì sono io dai like e condividi la mia la mia